Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo tredicesimo, credo, episodio, cioè episodio o video in cui vi parlo delle news di Farmy Simulator 2017. Allora, qui siamo ancora su LS Infos e potete notare i nuovi brand, cioè i nuovi mezzi che sono stati aggiunti ultimamente. In pratica questi qua sono quelli che potete trovare rispettivamente qua. Ci sono nuovi marchi tipo questo, che è un... non ho ancora ben capito, Thunder Creek. Allora, cerchiamo, copia, Google, incolla, vediamo un po', penso trasporto tipo cose del bestiame, trailer, vediamo un attimo cosa ci esce, appunto sì, no, attrezzi, ecco, penso che sia una cosa tipo del workshop, vedete, sì, generatore, cose così, anche benzina, perfetto. Eh, non male, non male. Però non è questo il punto forte. Allora, andiamo qua, abbiamo l'Arcusin, che avevamo già visto, è stato aggiunto il solito, barra della capello con la grande, è stata aggiunta la case, vediamo un attimo il modello. Mi pare, è quella che c'era già, la 7130, esatto, con le rispettive barre. Poi, eh, questo qui, che è veramente molto bello, della Heismat, che fa cippatrici, spero un qualcosa di grande, allora, vediamo un attimo. Voglio far vedere un attimo qua una cosa. Ok, copio e incolla. L'avevo già cercato, fa tipo, però, forestal. Ecco, vedete il camion del Mann, questa cosa qui sarebbe bella, però non credo. Vediamo un attimo, Italia. È una marchio italiano? Adesso ho un dubbio, non saprei. Comunque, faccio i patrici e i generatori, questi qua, che non ho ben capito cosa siano, non ho neanche letto bene. Comunque, sì, non è male come cosa. Qui cosa sono? I carbazzoli? No. Un'altra group. Come vedete, cippatrici e monoasse, e poi c'è anche la... due assi. Questa qui, la sollevatore. Comunque, molto bello. Il reparto silvicoltura è veramente stato aumentato. Qui c'è Coming Zone, speriamo nel Mann, o in qualcosa di simile, magari nella due assi. Poi abbiamo Hurleyman, il vecchio Hurleyman, il JCB. Adesso fatemi un attimo vedere JCB se hanno aggiunto. JCB abbiamo, sì, entrambi. La cosa che è stata modificata da questo è che ha le ruote grigie, non più gialle. I cerchioni, scusate. Questa a posto. La cippatrice Jens, esatto, quella con due assi. Veramente cippatrice. Adesso, silvicoltura, ce ne sono molte di cose. Vabbè, là è Yoskin, quella piccolina. Botte per latte, acqua, forse benzina. Il cramp è due assi. Il kun, quello trinciapaglia. Quello che avevamo già visto in un gameplay. Il Lely. Questo qua? Ero proprio curioso di vederlo. Il Lely Welger, che adesso non so bene. Vediamo un attimo. Lely, Lely, Lely. È qua. No, è qua sopra. E dalla Lely, vedete, ci sono queste cose. Mi aspettavo molto di più, tipo un'imballatrice, qualcosa del genere. Invece c'è soltanto. Abbiamo cinque mezzi, cinque attrezzi. Però mi aspettavo un qualcosa di più, dato che era il primo marchio e tutto quanto. Lely Tigro, ecco. Poi, abbiamo questi qua, della Maxi, penso. La stall non c'è. C'è soltanto per i pesi. La stall, vabbè. Sì, qui l'ho aperto per caricarvi il video dopo, fa niente. Ecco, imballatrice abbiamo le gnuola, che mi sembra stato aggiunto qualcosa qua dietro in questa qui. Il solito stepa. Abbiamo i carrettini per le barre, soltanto due. Non so se magari ne metteranno altri. Questo carretto qui con gli attrezzi. Ok, qua sotto c'erano anche le cose. E la Ursus, che ha messo il raccogliballe tonde. E il fasciatore. Come vedete, avete qua un po' le specifiche. Vabbè, il nome e il modello. La potenza richiesta, 200 cavalli, cavoli. Ok, questi sono dalla Maxi. Stepa. Ok, questo qui è per la benzina, come vedete, 3.750 litri. Il resto, nulla. Poi, questa qua è la parte meno importante, diciamo. La parte più importante è questa. Questa qui. Allora, io adesso in un video, fatemi un po' vedere. Non mi ricordo più in quale. Boh. Quale cavoli... Vabbè, mi pare di avervi accennato che la shampoo produce anche mezzi agri, cioè forestali. Ebbene sì, come potete vedere, vi lascio vedere a voi. Mettiamo 720. Ok. Appunto, ha messo questo mezzo forestale. È una... È tipo la Ponce Scorpion King. Molto bello, mi è piaciuto veramente. Questo qui, non so se l'ha fatto come quello originale. Che è veramente molto simile al John Riva. Movimenti buoni. Qui vedete, tre metri, potete farli. Molto bella le piante, come potete vedere. Vedete l'animazione, cioè si muovono. Ok, la tagliate. Guardate qua com'è la pianta. Molto ben fatta. Vi stoppo un attimo. Allora, è fatto molto simile alla John Deere. Di... Come macchina forestale. La cabina, soprattutto. Anche se il John Deere ha due ruote dietro. È più grande come mezzo. Però questo qui è un po' più piccolo. E ho trovato qualche notizia, tra cui... Il fatto che... La Shampo, cioè... Non so se sia reale questa notizia, però... Ha iniziato prima con le metitrebbie, cose sì. Penso solo metitrebbie e questi mezzi forestali. Però i mezzi forestali sono arrivati più avanti. Tipo dal 2000, col periodo lì, credo. Dalle foto e anche dalle informazioni che trovate. La differenza di questo braccio qua rispetto a quello del Ponse è che ruota, non col ruotare dell'asse anteriore, bensì ruota in singolo. Potete ruotarlo dalla cabina, anche stando dritti con il mezzo, senza stersare col mezzo. E come cosa non è male. Cioè, rispetto al Ponse, che è questo braccio attaccato alla cabina, ruotate la visuale della cabina e ruota, qui invece avete la possibilità di ruotarlo soltanto il braccio. La cabina non so bene se si ruota, comunque. Come vedete qua, ecco, a rate, si vede proprio il cerchio di vita dei tronchi, diciamo. E mi è piaciuta come cosa. La segatura sembra la stessa. Ok. Vedete che è un po' ruotato? Io non ho mai capito cosa significhi, va bene. E poi ritorno alla posizione iniziale. Ok, finito lì. Eh, sì. Come vedete è piuttosto piccolo. Ma ben fatto, dai. Ok, come potete vedere da qui c'è anche la still. Adesso, aspettate, posso farvelo vedere dal sito ufficiale? No, su notizie. È stato messo? Sì, credo. Sì, dovrebbe essere questo. Andiamo su Twitter, che tra l'altro c'è non proprio una pagina Twitter, però una cosa del genere. Ok. Dai, svegliati. Ok, abbiamo la still, che... Ok, bel modello, eh. MS 261. Non è piccolina, diciamo. E prezzo del sample. 188.000 euro, va a 15 km orari, dovrebbe essere, e appunto silvicoltura, e nulla. 135 litri, vedete, piccolino. Poi la motosega costa 1.000 euro, come al solito. Appunto le motoseghe di classe, cioè di alta marca, di alta potenza, diciamo, costano intorno ai 1.000 euro, 1.500, una cosa simile. E vi invito a vedere il video di domani, domani ci sarà serie edile, ecco. E come vedete, guardate, tutti i tronchi cadastati. Sì, è bello il fatto che c'è il cerchio più scuro all'interno del tronco, però con tutti i tronchi che sono fatti così non mi piacciono moltissimo. E c'è la motosega, tra l'altro, per chi vedrà il video di domani capirà un po' una cosa che mi è successa. Che purtroppo, diciamo. Adesso voglio farvi vedere un'altra cosa. Eccola qua. Della shampoo, appunto, io avevo pensato, ecco, sì, forse avevo detto nel video, che ci sarebbe stato qualcos'altro. Perché? Se voi andate su giochi, andate su shampoo, rosveld, rosenlev. Ok, ce l'ha presa? No. Ok, ora sì. Vedete, c'era questo. Ora andate a cercare cosa faceva la shampoo. E appunto, erano usciti questi qua. Come vedete, questo macchinario sarà degli anni intorno al 2000. Non molto prima. E come vedete, ci sono soltanto trebbie. Le trebbie, vedete, sono modelli vecchi, quindi queste ci sono da un po' di più. Mentre silvicoltura, invece, non c'è da molto. Però, come potete vedere, la John Deere, secondo me, la shampoo è una cosa che esiste nei paesi... Secondo me, cioè, non è che è una cosa che esiste nei paesi più poveri. Ma una cosa è in collaborazione con John Deere, mi sa. Perché queste due trebbie sono praticamente quasi identiche. Vabbè, questa qui è più vecchia, però questa qui nuova è uguale a quella nuova. E queste attrezzature hanno la cabina uguale alla John Deere. Quindi, non vorrei dire una cavolata, ma sono un po' partner. Sono unite, ecco. Come vedete, ci sono questi qua. Vedete? Piccolini, piuttosto piccoli. Adesso non... Vediamo un attimo, John Deere. Cosa c'entra là, vabbè. Silvicoltura. Adesso non ricordo il modello, 8000 forse. Come cavoli si chiama? Wood. Ok, ora dovrebbe uscire. Ecco qua. Vabbè, questi sono i modelli vecchi. Come potete vedere... Vabbè, che è una bella foto. Andiamo... E qui si... Sì, vabbè, la cabina, vedete com'è fatta? Arrotondata lì. E qui è arrotondata. Una cosa sim... Non è che sia identica, però è una cosa simile. Comunque, voglio farvi vedere la screen di... L'immagine di prima, che non trovo più. Dove cavoli si è cacciata? Era questa qua, no? E ora chi la ritrova? Allora... Era qua in giro? Questo, forse? No. Vabbè, comunque come potete vedere, fa anche questi... Questi qua. Questi mezzi qua, che in pratica sono per il trasporto legname. E se lo carico, ok, l'ha caricato. Questo qui è ancora un modello vecchio, però ci sono i più nuovi. E magari si potrebbe pensare che aggiungano anche questo. Che magari costa meno della ponze. E... Porta anche meno, ecco. E nulla. Io ragazzi, spero che questo video breve aggiornamento, che alla fine di tanto lungo, vi sia piaciuto. Vi ricordo, come sempre, di lasciare un bel like, commentare, condivere il video, iscrivervi al canale se non è ancora fatto. Ciao a tutti i torretti e al prossimo video!